Il Non ci ha fatto un pazzo in questo tempo per me far prendere o far scoprire. A questo momento, in cui ci sono in occhio, un cuore e mi arrabbiamo. E vi posso assicurare una cosa. Ci prendiamo tutto quello che con noi sta. Non ci prendiamo tutto quello che ha fatto. Un'umiliazione. Un morto. La mano che ci ha fatto male è sempre stessa. E' abbastanza. La casa nostra è una bomba in esplosso in generale. Amici a mano a terra da tuo padre e Ciro. Ciro! 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 Gordomario.